Per rispettare l'ambiente bastano poche ma responsabili azioni quotidiane ed imparare a produrre meno spazzatura è sicuramente una di queste. Dal 17 al 25 novembre Napoli partecipa alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, evento che vuole sensibilizzare sul tema istituzioni e consumatori promuovendo comportamenti virtuosi ed ecosostenibili. Per l'occasione il Comune con l'Associazione Pizzarioli Napoletani lancia Take Away and Take Gain. Coloro che anziché gettarli riporteranno alle pizzerie aderenti all'iniziativa i contenitori da asporto riutilizzabili otterranno una pizza a margherita in omaggio al successivo ordine effettuato nella stessa settimana. Sono azioni che hanno valore simbolico ma che tracciano anche quell'educazione nelle famiglie, nei bambini, l'idea che bisogna consumare di meno, consumare bene e produrre il più possibile meno rifiuti. Per coinvolgere la cittadinanza sulla necessità di ridurre a monte i rifiuti, anche a Sia e Danè, all'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, promuovono una serie di iniziative orientate al riuso e riciclo dei prodotti, presentate alla Fiera del Baratto e dell'Usato in programma alla Mostra d'Oltremare il 24 e 25 novembre. Saremo presenti con queste sculture, quindi daremo una mano a queste sculture realizzate con la carta, con dei libri o dei fumetti vecchi che invece di essere gettati, quindi vengono sottratti ai rifiuti, possono diventare degli oggetti molto belli. Avremo anche lì uno spazio dove portare medicinali, pigli e piccoli elettrodomestici. Ecco questo è un appello ai cittadini, portate lì questo materiale, ci saranno dei piccoli omaggi, ci saranno dei vantaggi soprattutto per la nostra bella città. Una delle infopoint con tutta una serie di aziende che vendono detersivi sfusi, alimenti sfusi, proprio per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di ridurre a monte i rifiuti. In collaborazione con il Comune, la NEA ha inoltre previsto l'erogazione di un contributo per l'acquisto di compostiere, a vantaggio dei cittadini e dei condomini in possesso di giardino, con l'obiettivo di promuovere la pratica virtuosa del compostaggio e la riduzione della frazione organica dei rifiuti.